Pascal, risultato insomma un po' così, però una bella esperienza giocare con la primavera del Palermo. Sì, è sempre una bella opportunità per giocare con una squadra con questa grande esperienza. Allora ho giocato tipo un campionato, gioco ogni giorno, ma comunque abbiamo perso, abbiamo perso bruttissimo. Non possiamo sperare per la prossima partita. C'è un allenamento ancora da fare, dovete trovare un po' la vostra dimensione. Però ho visto buoni profili, insomma, ci siete? Sì, sì, ci siamo, solo che dobbiamo imparare di più, dobbiamo imparare come gestire la palla, tecnicamente dobbiamo imparare di più. Ma purtroppo piano piano sì, questa squadra è un buon, c'è tanti ragazzi di talento, io credo in loro molto. Possiamo fare grande cosa se mettiamo la testa giusto. L'obiettivo magari l'anno prossimo è iscriversi in terza categoria e iniziare, insomma, un campionato. Sì, io, sì, quest'anno anche, sì, quest'anno io penso a iscrivere una squadra, non lo so. Vediamo, speriamo. Così continuo questa avventura. Speriamo, grazie. Parliamo con Seku, centrocampista. Allora, anche a te chiedo, insomma, il risultato è un po' così, però la prestazione c'è stata. Sì, 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 perché, lo so, la squadra di Palermo è più forte di noi. Ma anche noi abbiamo fatto tanti, tanti, perché, lo so, noi prendiamo sei o quattro gol. La corsa è un'esperienza per noi, ancora dobbiamo imparare di più per la prossima partita. Grazie. Prego. Potete mettere fuori per favore. Lui è Massavood, ragazzi. Numero 10, fantasista della squadra. E ora sentiamo anche lui. Eccomi, eccomi. Va bene così, due parole. Ah, intervistiamo mentre pallegge. Allora, la salute. Bravo, bravo, bravo. Il numero 10 sulle spalle, qualche cosa, infatti, insomma, vorrà dire. È una prestazione buona, ti abbiamo visto molto bene in campo, Ma la speranza qual è? Che questa squadra possa andare avanti, per esempio, come ho chiesto a Sekou, iscriversi al campionato e iniziare. Sì, oggi io sono molto felice, però... Problemi e potere e fare qualcosa, però... Non è andata benissimo nel punteggio, però la prestazione c'è stata, ho visto anche una bella punizione che è uscita di poco. Ciao, ma ci hai provato? Anche... Io sono sempre felice, io ho detto, e grazie mille. E ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie.